Sei convinto? Alleluia! Leggo io? Lo legge? Leggo io? Leggo io? Ah! Grazie! 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 Amen! Fai su sé! Amen! Bene! Alleluia! Io, lui, Daniele Consoli, prendo il mio impegno coscientemente che ho trovato in Gesù Cristo il mio Signore Salvatore con questo battesimo accetto e testimone pubblicamente l'opera compiuta da Gesù Cristo sul Calvario per me. Quindi, mi impegno! Quindi, mi impegno! Di servirti, di adorarti tutti i giorni della mia vita! Amen! Grazie! Amen! Alleluia! E qui c'è un altro! Satana, apri per le orecchie perché ne stai perdendo un altro! Già da anni! E l'Inferno si svuota! E il partizio si riempie! E la Mare di Dio è in Milano di Natalia! Vai! Maria del Gesù Cristo è l'unico Signore Salvatore della Maria! Grazie a tutti! 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 Allora, racconta qualunque? Io ringrazio il Signore, il professore di questa serata, che ogni giorno che passo con Lui vedrò un suo appoggio. Amén. Sì, assolutamente. Il nostro amico è il nostro riprendimento di un imperio, coscientemente, che ho provato in Gesù Cristo, il mio Signore Salvadori. Con questo battesimo accetto e testimonio pubblicamente l'opera impiuta da Gesù Cristo, sul calvario per lei. Quindi mi impegno di servire e adorare i giorni della mia vita. Grazie Gesù, amén. Le cose vecchie sono passate, ecco, le sono diventate. E qui c'è una cosa nuova. Questi sono oltre i nuovi e fino a nuovo. Amén. Signore, è il città di Gesù Cristo come personale, salvato nella nostra vita. Amén. Adesso ripartizziamo il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amén. Così sia. Signore, è il città di Gesù Cristo come personale, salvato nella nostra vita. La sua vita è il città di Gesù Cristo come personale, salvato nella nostra vita. SANTO! Il Padre è veramente SANTO! Prima era SANTINO! Ora è SANTO! SANTO! Vieni qua, Valentina! Valentina, diciamo che... Degli adolescenti assieme a Marco e naturalmente a mia moglie, e quindi è giusto che questi ragazzi possono essere, come si dice, testimoniati da loro che vivono giornalmente la parola di Dio, la vita cristiana insieme. Io di Santo, come di tutti gli altri ragazzi, sono contentissima che stasera sono qua e che vogliono testimoniare davanti alla chiesa, ma davanti al mondo, che è Gesù Cristo il loro Signore. Non è facile per gli adolescenti così come per i giovani essere cristiani e seguire Cristo, ma loro l'hanno fatto e hanno dei cuori meravigliosi. E via! Insieme gli alleniamo e questa sera siamo onorati di essere qui per questo meraviglioso evento. SANTO! SANTO! Cosa vuoi dire? Il Dio è ovvio dire che... In grattere di essere... Perché oggi sono un padre, perché se non tenere per lui io non sono un padre. SANTO! 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 Alleluia! Come solo ha detto io! Io, santo Consoli, prendo il mio impegno coscientemente, coscientemente, che ho trovato in Gesù Cristo il mio Signore Salvatore, con questo battesimo accetto e testimonio pubblicamente l'opera compiuta da Gesù Cristo sul Calvario per me. Quindi, mi impegno! Amén! 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 Di servirti e adorarti tutti i giorni della mia vita, grazie Gesù! Amén! 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 Grazie a tutti